Nonostante siano tante le mostre che il Governo ha fatto nei confronti dei precari dei Vigili del Fuoco, c'è ancora tante incertezze? Sì, i Vigili del Fuoco oggi sono scesi in piazza in parecchie città italiane per rivendicare la risoluzione Fiano. Questo perché attraverso il Decreto 139, dove praticamente sono tutte le mansioni del Corpo Nazionale, doveva la stessa amministrazione apportare le modifiche per quanto riguarda come prevede la risoluzione Fiano. Questa la nostra amministrazione non l'ha fatta, quindi adesso lo dovrà fare il Governo. Infatti oggi ci sarà la prima discussione alla prima commissione affari costituzionali perché quello che non ha fatto l'amministrazione dovrà immetterlo al Governo, cioè lo dovrà fare il Governo perché la risoluzione Fiano è stata votata e approvata il 18 gennaio 2017. Quindi la nostra amministrazione continua a non sottostare a quelle che sono le direttive del Governo e quindi noi giustamente come Vigili del Fuoco pretendiamo la salvaguardia e la prevenzione del cittadino perché come personale anche permanente si affrontano anche un surplus di lavoro, abbiamo anche chiamate in coda. Quindi noi badiamo alla prevenzione e alla salvaguardia del cittadino. Quindi noi siamo qui fino a quando non ci arrivano delle comunicazioni da Roma perché giustamente si deve rispettare quello che è la risoluzione Fiano approvata e in più soprattutto lo standard europeo per il soccorso al cittadino.